però che sono tre pacchi le altre pacchi indicati questo è il Dago il CS e non so perché Alex è legno Alex lo gioca a legno è così qua è l'ora adesso dire che mi fanno provare griff e mice mi fanno provare griff che magico si spera dire che comincia a parlare dire che per me non sa com'è bellissimo no 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 Alla prossima 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 Alla prossima